Siamo con Edoardo Sanchez, il nuovo lanciatore del Parma Clima, venezuelano, esperienza in Major League con due franchigie, con il San Francisco Cardinals e il Chicago Cubs, arriva a Parma con ottime credenziali. Gli chiediamo qual è la prima impressione della squadra in questi due giorni si ha avuto modo di conoscere i compagni e quali sono i suoi obiettivi per questa stagione. Buon gruppo, allegro e unito, sono un buon ragazzo e spero riunirmi con il gruppo completo e mantenermi sano e aiutare l'equipo a buscare il campionale per questi anni, solamente che vi ho proposto. Tu sei un giocatore che ha esperienza sia di grande lega, sia professionale, quali possono essere per un giocatore di questo livello, le differenze rispetto al campionato italiano che ancora non conosce, riguardo soprattutto all'adattamento, cosa deve fare secondo lui per adattarsi al nostro campionato? Si, mantenermi sempre attivo, lavorando con la parte fisica, la parte mental, preparando sempre per affrontare ogni reto, ogni trattamento, ogni equipe, ogni gioco e naprawdę un gioco che tra poco in gioco e i gioco ci farà aiutare il gioco, gli attivano il gioco, gli attivano gli attivano gli attivano un gioco e i gioco all'adattamento che scappongano. Le sue caratteristiche, da punto di vista tecnico, che tipo di lanciatore hai? Sì, il battagliatore, trato di aiutare di attaccare i lanciatori con tutti i lanciamenti del primo pitchevo fino al mio ultimo lanciamento del partito. E sempre sta buono in cima di lui, sia con il biceo chebrato, sia con il paliceo chebrato. Ti chiediamo con un saluto ai tifosi del Parma e, se vuoi dire qualcosa, ai tuoi nuovi tifosi. Saluto ai fanatici del Valpar Club. Spero che ci aiutino e ci aiutino a ottenere l'obiettivo del campionato.